abcdf fabrizio pronto curcio sono genarino curcio curcio mi stai facendo il sango pespino e ma tutto quanto ci stai facendo fa mamma stiamo facendo firma curcio e e curcio ma tu hai scritto un apposito su fattere lo razzo e ma come su fattere ma vera e no io pensavo che ma io pensavo ma ti dice la verità mi hanno detto la giornata mi hanno detto in generale ha sentito peppe che si è rotto razzo e c'è che c'è fa che ci posso e poi mi hanno detto in generale ma ha sentito che c'è tutto razzo e c'è ma io pensavo che ma io pensavo che erano modo di riuscire e e c'è forse no modo e invece e ma io pensavo che erano scherzo razzo invece ho vero su fatti e cioè ma che erano scherzo ma che erano scherzo ma che erano scherzo e c'è come si chiama lunga marcia 5b c'è che e tenna a sigla czz cioè nu razza casa per carri tenna a sigla czz e ci capisco e no non capisco niente razzo no non so no c'è poi si capiscono poco che te ci dice macchina e motocicletta al limite ma razzo no però si vuole tengo certe amiche mia che sapere razzo e tutto quanto poi è sicuro che è no nel senso che conosce tutto quanto sono pratiche razzo e possa dimandare loro sì ecco cosa no ma perché noi sai questo fatto che che stiamo andando al super dietro un po' come dice dice è merda no tu hai sentito l'emma che stiamo andando al super dietro un po' che merda io pensavo diciamo cioè noi pensavamo che ora mi la vinta era l'anno loro razza e invece ora mi la vinta l'anno loro razza cioè pensano poco tu ma sempre i cinesi e cioè se i cinesi primovirus mo razzo ci sta nascendo papà saluti si e e e ci capite c'è e ci capite ma primo virus po razzo ci mancano solo l'aliena che ci vengono a pigliare e ci portano cuccio eh madonna mia come ma fa e e ci viste un po' sito ma io che le tu volevi parlare che mi si sono fatte le l'emergenza razzo qua vicino all'emergenza coronavirus e ci viste ci sta eh cioè ma che sarebbe ne ci capite fammi capire buono cioè su se rutto razza e e c'è e arrivano i frammenti e ci capite e e e e frammenti che arrivano sì così così c'è su razza non potremmo pigliare qualche precauzione co 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 eh eh ah frammenti ah no pensavo frammenti significa c'è potramente ah ah frammenti su cioè a scarda ah 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 a scarda razza arrivano scarda razza praticamente e ci capite e e e no ma curcio noi tutto tutto potevamo pensare ma che se scassavo razza guarda c'è proprio era lontano il pensiero nostro che se scassavo razza e e e e ma e no ma hai già letto come è scritto un po' sito ma io volevo capire se capite buono cioè sono fatte da succedere due vinte si è scritto il momento la previsione di rientro sulla terra leggo come si è scritto un po' sito della protezione tu è è fissato per le due ventiquattro ore locali con una finestra temporale di incertezza di più o meno sei ore c'è il gioco puro eh cioè il gioco è potente ah finestra no scusi è scritto finestra temporale pensavo che dice no ah significa che c'è quindi su fatto che più o meno sei ore significa che c'è c'è se hai due e due e mezzo può essere l'otto e mezzo da sera può essere l'otto e mezzo da mattina e ci capite e perché scrivi due e vintiquattro se ci sono fatte sei ore ci vuoi avere due e mezzo eh no ma se uno scrive due e vintiquattro con questa finestra temporale se è 30 secondi in un minuto allora sono due e vinticinque o due e vintitre ma se tu scrivi chi o meno sei lì c'è avere due e mezzo hai capito eh cioè eh ma comunque se arrivi a due e mezzo c'è la campagna non può succedere niente no Vicenza non fa scendere due e mezzo no coprifuoco Vicenza c'è tenere due e mezzo siamo tranquilli sia fino all'otto e mezzo fino a dieci potremmo essere preoccupato eh è scritto su fatto cioè per capire questa cosa perché poco qualcuno ha detto che arrivi 4 e 50 euro eh però sempre questo fatto di 6 ore 50 euro sì 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 ma avete messo tutti i cervelli avrebbero fatto eh ci viste perché è scritto qui il tavolo tecnico composto da ASI agenzia spaziale italiana da un membro dell'ufficio del consiglio militare della presidenza del consiglio eh rappresentanti del ministero dell'interno dipartimento dei vigili del fuoco della difesa coi dell'aeronautica militare eh commissione speciale di protezione civile e conferenza delle ragioni isoc degli esteri enac enav ispra ci manco sul lusca praticamente che ci vede una foto in buono razza eh e e e e e di seguire eh tutte le operazioni di rientro fornendo analisi e aggiornamenti sull'evoluzione delle operazioni quindi ma poi non è che al finale ci riuscite quelle cose tipo non ci sono studi e ci troviamo razza in dei piedi eh in capo cioè no puoi sapere perché puoi dire sono fatti dei comportamenti responsabili eh mi è piaciuto c'è scritto posso leggere eh è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici cioè puoi non puoi creare i palazzi cioè proprio si è coccose care nei palazzi un po' come ho fatto le trompe l'astrazenica eh cioè poco probabile eh i benefici sono superiori ai rischi che pertanto sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti cioè c'è ma mettere in dei palazzi o c'è ma sta fuori fammi capire eh no perché si arriva e puoi creare il palazzo pure che la possibilità è poi cioè poco però se stiamo in due palazzi è meglio che stiamo all'aperto no eh no giusto puoi capire e i frammenti cioè sempre ho fatto le scarte su eh mh e impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni perforando i tetti stessi e i solai sottostanti cioè chi abita tipo in manzardo si spogliano tetti si spogliano pure i solai vanno a finire a basso e tutto quanto hai capito così determinando anche pericolo per le persone ah pure per le persone cioè si vanno a cacciare anche non è un problema ma è se la persona a basso e cucina e cose no i mob non fa niente e ci capite pertanto non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle singole strutture si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici cioè mo si su cose cari 2.24 stanotte no cioè noi è mai addormentata signora a basso primo piano eh no puoi capire perché no ma non si possono fare visite c'era le persone quindi siamo tutto condominio a basso da signore poi succede che ci scansiamo razze ci vogliamo virus cioè hai capito c'è facendo un po' che pace cucciare queste cose capito eh all'interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono per gli edifici in muratura sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti quelli più spessi cioè non ci sono mai fatto fare un buco da un muro maestro cioè mamma di Dio ma chi dà un buco da un muro maestro se ti ha apparato un buco eh e per gli edifici in cemento armato in vicinanza delle colonne cioè che in modo che sia caro palazzo non almeno rimane appiso avvicinare le colonne e ci capite no ma fammi capire perché sia questa notte io tengo tempo che chiamo un uciniere per me fa fare una perizia ma se avevo palazzo mi inserisce manca se è muratura se ci vende armato non so pratica capito eh è poco probabile che i frammenti più piccoli siano visibili da terra prima dell'impatto cioè ci trovano direttamente un bacio praticamente e ci capite alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero resistere all'impatto si consiglia in linea generale che chiunque avvistasse un frammento di non toccarlo mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri e dovrà segnalarlo immediatamente alle autorità competenti cioè arriva questo razzo no? si schianta in terra noi ci siamo avvicinati ci siamo mantenendo le distanze invece di un metro e due metri e vinto metri questi fatti chiamano i vicini diciamo oh vicile vedi che qua ci sta è caduto un razzo vieni a prendere un poco e che fa eh no a me mi pare un poco tutto strano su fatti però curcio tu sei un capo della protezione civile ho fatto un razzo lunga manica 5b con su razza enorme eh fa una cosa fammi sapere almeno su fatti se ci chiamo uciniere e soprattutto se ci chiamo in sotto il cervello che sia qualcosa almeno la macchina ti metto quando sotto i porti c'è capito eh a me non ha parato la macchina capito che è importante vabbè ci sentimmo cuccio eh fammi sapere a presto a presto pure per stasera eh vabbè un bacione ciao bello ciao ciao ciao